Perché facciamo ogni sabato purificazione? Perché ogni sabato imploriamo la misericordia di Dio? Imploriamo questo scorticamento dell'uomo vecchio che è dentro di noi? Perché siamo troppo impregnati di iniquità, non parliamo delle grandi iniquità, ma delle iniquità che chiamiamo piccole, l'iniquità della mente contorta, del cuore di belle, dei sensi inclinati al male. Ecco perché dobbiamo sempre insistere nella purificazione, per presentarci davanti a Dio. Egli vede macchie negli angeli, vede macchie nel sole. Lui esige una grande purezza per noi, perché ci vuol bene. E il testo che mi veniva salendo l'altare, e questo del profeta di Geremia, al capitolo VI, alla fine, dove il Signore dice Io ti ho posto come saggiatore tra il mio popolo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro condotta. Essi sono ribelli, spargono calunnie, Tutti sono corrotti, Il mantice soffia con forza, Il piombo è consumato dal fuoco, In vani si vuole raffinarlo, Ad ogni costo le scorie non si separano. Ecco, le scorie non si separano, Ecco perché bisogna soffiare nel fuoco, Bisogna rinnovare continuamente La purificazione Attraverso l'acqua lustrale, Che è l'acqua che porta il fuoco dello spirito, Perché le scorie si separino, Perché si è ripulito L'interno della pentola, come dice altrove il profeta. Siamo tutti così, Non si esclude nessuno, Cominciando dal sacerdote, Fino all'ultimo presente, Perché siamo inclinati al male, Accumuliamo menzogne su menzogne, Calunnie su calunnie, Sentimenti cattivi su sentimenti cattivi, Ecco perché Questo accumulo di ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, Queste sedimentazioni Producono delle scorie Che aderiscono Al fondo E aderiscono alle pareti Nel nostro cuore E Difficilmente si separano Per questo chiediamo al Signore Continuamente attraverso la purificazione La separazione delle scorie Perché risplende l'argento di Dio dentro di noi Perché l'oro dalla carità possa risplendere Perché il nostro cuore sia mondato Chiediamo con umiltà al Signore di purificarci Purificarci ogni giorno di più Perché ogni giorno di più accumuliamo Sentimenti ostili, menzogne Dentro di noi Non verità dentro di noi Non amore dentro di noi Violenza Asprezza Giudizi cattivi Parole cattive Azioni cattive Sono tutte Cose che Lasciano il loro sedimento in noi Ecco perché chiediamo al Signore Questa purificazione profonda Chiediamola questa mattina Per intercessione di Maria Santissima E anche del carissimo medico San Luca Di cui celebraiamo la festa Di colui che penetrò Più profondamente nel cuore di Cristo Colui che descrive il cuore di Cristo Più che gli altri evangelisti Colui che contattò Maria Per riguardo Ai primi capitoli Che dovevano formare Il suo Vangelo La vita dell'infanzia di Gesù Dirigente ricercatore delle verità Colui che ci discrisse Tutta l'attività dello Spirito Santo Negli atti degli Apostoli Per l'intercessione di San Luca Chiediamo perciò Questa purificazione Della nostra coscienza Delle opere della carne E dei difetti dello Spirito O Dio Eterno E onnipotente Che hai voluto Che per mezze dell'acqua Elemento di purificazione Sorgente di vita Anche l'anima venisse Allavata E ricevessi il dono Della vita eterna Benedici quest'acqua Perché diventi segno Della Tua protezione In questo giorno A Te consacrato Rinnovi noi Signore La fonte viva Della Tua grazia E difendici Da ogni male Dell'anima e del corpo Perché Veniamo a Te Con cuore puro Per Cristo Nostro Signore Amen Aspergimi O Benedichi il Signore Questo sale Tu ordinassi Al profeta Eliseo Di ristellare l'acqua Con il sale Fa che mediante Questo duplice segno Di purificazione Siamo liberati Dall'insidio del maligno E custoditi Dalla presenza Della presenza Del Tua Santo Spirito Per Cristo Nostro Signore Amen Aspergimi O Signore Colissopo Eserò purificato Lavami Eserò più bianco Dalla neve E dice il Signore Su di voi Verserò Dell'acqua pura E starete purificati Da ogni vostra colpa E vi darò un cuore nuovo Dice il Signore Il Signore Il Signore Sia con voi E con il tuo Spirito Dal Vangelo Secondo Luca Gloria a te In quel tempo Il Signore Designò Altri settantadue Discepoli E li inviò A due A due Avanti a sé In ogni città E luogo Dove stava Per recarsi Diceva loro La messe È molta Ma gli operai Sono pochi Pregate dunque Il padrone Della messe Perché mandi Gli operai Per la sua messe Andate Ecco io vi mando Come agnelli In mezzo ai lupi Non portate Né borsa Né bisaccia Né sandali E non salutate Nessuno Lungo la strada In qualunque Casa entriate Prima dite Pace A questa casa Se vi sarà Un figlio Della pace La vostra pace Scenderà Su di lui Altrimenti Ritornerà Su di voi Restate In quella casa Mangiando E bevendo Di quello Che hanno Perché L'operaio È degno Della sua Mercede Non passate Di casa In casa Quando Entrerete In una città E vi accoglieranno Mangiate Quello Che vi sarà Messo Dinanzi Curate I malati Che vi si trovano E dite loro È vicino A voi Il regno di Dio Parola del Signore Alleluia 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 Celebriamo Celebriamo la festa Di San Luca Di San Luca Medico carissimo Scrittore Forbitissimo Che dipinge Che dipinge Il regno di Dio Condividendo I disagi Dei lunghi Viaggi E rimanendo Con Lui Nella prigionia Colui Che descrive Il progresso Del mistico Corpo di Cristo La Chiesa Descrivendono Così Le fasi Di crescita E mettendo in luce L'amore Nelle prime cristianità Che si formarono Ad opera degli apostoli Un grande Scrittore Che ha preso Da Maria Nostra Madre I primordi Della vita Di Cristo Signore Siamo grati a Lui Per tutte le notizie Che ci ha fornito Con animo Gentile Con penna Veloce Con animo In cui Rifulgono I sentimenti Nella misericordia Dall'amore E dalla pace E Lui Che ci ha Abbozzato Il volto Del Signore E Lui Che ci ha Abbozzato La crescita Del corpo Del Signore Nei due Meravigliosi Iscritti Il Vangelo E gli atti Nel Vangelo Egli dipinge Il volto Del Signore Il volto Del capo Negli atti Egli dipinge Il corpo Del Signore Nella sua crescita Nella sua articolazione Tutta la Chiesa è grata a Lui Paolo Apostolo Lo aveva carissimo E il Vangelo Di cui parla Paolo E' il Vangelo Di Luca Perché è Luca Che meglio Esprime a Paolo Il Vangelo Del Signore Nostro Gesù Cristo Ma è anche Luca Che trae Da Paolo La forza La convinzione Per penetrare Nel mistero cristiano E annunziare La salvezza Il mistero Universale Nella salvezza Gettiamo uno sguardo Su questi due dipinti Che ci lascia Luca Il primo dipinto E' nel Vangelo Il volto Del Signore Luca Penetra Nel volto Interiore Di Cristo Coglie I sentimenti Del cuore Di Cristo E ci dà Il ritratto Più bello Di Cristo Cristo Amante Dei poveri Dei miseri Degli ultimi Cristo Che manda Gli apostoli Ad evangelizzare A predicare Raccomandando Di essere poveri Senza denaro Con una sola tunica Raccomandando Di avere cura Degli infermi E di portare Dovunque La pace Il volto Di Gesù Nella penna Di Marco E il volto Di Cristo Che ha Compassione Dalla folla Il volto Il volto Di Cristo Che si commuove Di fronte Ai bisogni Della gente Che lacrima Che si ferma Che consola Che difende Dagli strali Maligne Maddalena Che è sui piedi Di Cristo Che consola Pietro Dopo il trattimento E il volto Meraviglioso Di Cristo Che rifugia Nel quadro Dipinto Da Luca E noi Ringraziamo Il Signore Per questo Grande evangelista Ma vogliamo Così Innamorarci Di Cristo Penetrare Nel cuore Di Cristo Prendere Dal cuore Di Cristo La compassione L'amore Innamorarci Di Cristo Come fu Lui Innamorato Così anche Dobbiamo essere Noi Innamorati Di Cristo Se noi Non amiamo Cristo Fino All'innamoramento Non comprenderemo Nulla Di Cristo Signore Lo diceva bene Agostino Da amanten E ti senti E ti co Ti dico Dammi un uomo Che ami E comprenderà Quanto E ti dico Di Cristo Tante volte Tante volte Noi non comprendiamo Il Signore E ci rivoltiamo Versi Di Lui Perché Non ne comprendiamo Il cuore E mancanze Di amore Chiediamo Al Signore Di amare Di amare Profondamente Colui Che il Padre Ci ha inviato Di innamorarci Di Lui E allora Comprenderemo Tanto Tanto Di Gesù Scenderemo Nel suo mistero Ci uneremo A Lui Ci trasformeremo In Lui Annunciatori Di pace Ci trasformeremo In Lui Medici Di corpi E di anime Ci trasformeremo In Lui Compassionevole Verso tutti Saremo Un po Come Lui Cristo Signore Discepoli Come il Maestro Nell'altro dipinto Il dipinto Degli atti C'è il corpo Del Signore Che cresce Cresce Conforme al capo Però Deve Lottare Contra le forze Del male Che impediscono La crescita Armoniosa Del corpo Di Cristo Gli atti Degli apostoli Sono il Vangelo Dello Spirito Santo Perché Viene messo In risalto L'opera Dello Spirito Quello Spirito Che formò Nel grembo Di Maria Come dice Luca Gesù Il corpo Di Gesù Quello Spirito Che alleggò Su Gesù Nel giorno Nella Immersione Nel Giordano Nel Giordano Nel Battesimo Quello Spirito Quello Spirito Che lo unse E che lo portò A Nazareth Ad annunziare Il Vangelo Del Regno Quello Spirito Cioè Che formò Gesù Che accompagnò Gesù Fino Al Calvario Quello Spirito È in azione E una volta Che Cristo È asceso Al cielo Secondo Le promesse Colte Dalla bocca Di Cristo Quello Spirito Scende Sulla Chiesa Che nasce Avrete forza Dall'alto Riceverete L'adempimento Della promessa Lo Spirito Santo E mi sarete Testimone In Gerusalemme Fine I confini Del mondo E quello Spirito Scende Sulla Chiesa Fonda La Chiesa Quello Spirito Forma La prima Comunità Dei credenti In due Particolari Luca ci Tratteggia La prima Cristianità Capitolo 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 Quarto Erano un cuor solo E un'anima sola Erano assidue Alla preghiera Sottomessi Agli apostoli Che annunziavano Il Vangelo Spezzavano Spezzavano il panno Ogni giorno Sottomessi Prendevano Prendevano i pasti E che ritroviamo Del volto di Cristo Del volto di Cristo Del capo Così del corpo Di Cristo Ad opera Dello Spirito Santo E' una E' una E' una Attraverso la Chiesa Tutti E tanti Mi sono stati Di fastidio L'apostolo Che aveva Sostenuto Tutti E adesso E' abbandonato Da tutti Nel momento Cruciale Del tribunale Come Cristo Perché Il ministro Deve Rassomigliare Al maestro Come tutti Abbandonarono Cristo I suoi discepoli Così Tutti Chi va a destra Chi va a sinistra Chi lo tradisce Megli Non si stanca Pur nella prigionia Di compiere All'ultimo Il suo dovere Ecco Ci dice Che i crescenti Andati in Galattia Dema Mi ha abbandonato Tito E' in Dalmazia Soltanto Luca E' con me Raccomando Di prendere San Marco E di portarlo Con te Nella predicazione Scrivendo A Timotio Si preoccupa Di mandare Tichico Ad Efeso E Prega di Riportargli Il mantello Che ha dimenticato Nella casa di Carpo E le pergamene C'è un grande nemico Alessandro Alessandro Il ramaio Che gli ha procurato Molti mali Molti fastidi E gli ha procurato E gli ha procurato Grandi mali Facendo il delatore E raccomando A Timotio Di guardarsi Perché E' stato Un accanito Avversario Nel mio Ministero Ecco Fratelli e Sorelle Sono Le condizioni Umane In cui tutti Siamo chiamati A lavorare Ma non per questo Paolo si abatte Dice il Signore Però Mi è stato Vicino E mi ha dato Forza Perché Per mio mezzo Si compie La proclamazione Del messaggio E perché Tutti Possano Convertirsi Tutte le Genti Ecco I pensieri Di Paolo E alla conversione Al completamento Del corpo Del Signore Ma questo Completamento Del corpo Del Signore Passa Attraverso Le sue Sofferenze Personali Come Attraverso Il sacrificio Di Cristo Passa La redenzione Come Per Paolo Così anche Per noi Il cristiano E' chiamato A soffrire Se vuole essere Fedeli a Cristo Se vuole portare Il messaggio Autentico Di Cristo Il cristiano Avrà un Alessandro Che Gli procurerà Molti Mali Il cristiano Avrà Colore che Lo abbandonano E avrà colore Che Lo lasceranno Solo Ma non per questo Il cristiano Deve Cessare Dall'essere Di Cristo E dal Predicare Cristo Testimoniale Cristo Ecco Abbozato Secondo Il Vangelo E secondo La lettura Di atti Quello Che Ha scritto Questo grande Pittore Luca Che Ha dipinto Il capo E ha dipinto Il corpo Di quel Dio che si è fatto Uomo E ha radunato Tutti In un'unica Umanità La comunità Dei Redenti Noi apparteniamo Al corpo Di Cristo Ma dobbiamo Guardare Al capo Per dipingere Dentro di noi A caratteri Inderebili Il volto Del Signore La somiglianza Del Signore E chiediamo Questa mattina Di rassomigliare A Cristo Rassomigliare A Cristo Che ha Compassione Soprattutto Per i poveri Per i sofferenti Rassomigliare A Cristo Che predica Predica Incessantemente Il Vangelo Rassomigliare A Cristo Che porta La pace E raccomanda Gli apostoli A portare La pace O Signore Gesù Questa mattina Nella festa Di Luca Noi vogliamo Contemplare Il tuo volto Meraviglioso E vogliamo Dipingerlo Con il pennello Dello Spirito Santo Dentro di noi Vogliamo Che i tuoi Sentimenti Siano Profondamente Scolpiti Dipinti Nel fondo Del nostro Cuore E vogliamo Essere Il tuo corpo Paziente Vogliamo Essere Anche La tua bocca Che annuncia La verità Che proclama Che proclama Il Vangelo Vogliamo Essere Le tue braccia Che hanno Cura Dei poveri Dei soffarenti Vogliamo Essere I portatori Della pace I portatori Del dietro messaggio Amen Nelle nostre famiglie Le famiglie Nostre sono Disagiate Disagiate Moralmente Disagiate Spiritualmente Disagiate Fisicamente Materialmente Non c'è Una famiglia Che si salve Chi per un Verso Chi per un altro Soffre Nella propria famiglia Ed ha motivo Di lamentarsi Con te Perché La famiglia È toccata Da te Signore Mio Dio Signore Nostro Gesù Cristo Visita Le nostre famiglie Riporta La salute Nelle nostre famiglie Riporta La pace Nelle nostre famiglie Riporta La concordia Nelle nostre famiglie Riporta La providenza Di Dio Nelle nostre famiglie Riporta La concordia Tra i parenti E gli amici Per questo Signore Noi ti preghiamo E adesso Signore Ti presentiamo Tutti i nostri cari Che da vicino Da lontano Si rivolgono A questa Comunità Terapeutica Del sabato Del sabato Tu hai detto Pregate gli uni Per gli altri Per essere guariti E noi ti presentiamo Signore Tutti questi cari fratelli Che attraverso Queste Piccole Carte Grazie di guarigione Di liberazione Di consolazione Per questo Signore Noi ti preghiamo Ti preghiamo Signore Signore Ti preghiamo In questo momento Per tutti i terremotati Che soffrono E mentre ti chiediamo Per quelli che sono morti Di essere ammessi Presto O immediatamente Alla luce Nel tuo regno Ti preghiamo Per quelli che soffrono Nelle baracche Per tutti i terremotati Per tutti i disagiati Che non trovano riposo E aiuto Ti chiediamo La grazia Della rassegnazione Dell'accettazione Nell'accettazione Dei loro disagi E gradisci O Signore Le loro sofferenze Per la salvezza nostra Perché se essi soffrono Perché se essi soffrono Soffrono per loro Ha toccato la salvezza Ha toccato il seno Lessione Lessioni Lessioni Eliminabili C'è un ragazzo C'è un ragazzo In mezzo a noi Sia nell'altro Che nell'altro caso Fa che Sottoponendosi Le cure dovute Tutto si risolvi Al più presto Tu e comandi A questo male Sia nell'uno Nell'altro caso Di fermarsi E poi Farai indietreggiare Questo male Ed è per questo Che noi Ti ringraziamo Tanti dolori Uno Alla testa Tremendo Due Alla schiena E due O tre Al collo Il Signore All'istante Guarisce Ginocchia Vacillanti E un ginocchio Che non si poteva Ben articolare Vengono toccate Dal Signore Benediciamo Il Signore Che guarisce Tutte le nostre Malattie E adesso Ascoltiamo Una breve Testimonianza E poi Procediamo Nella celebrazione Della Santa Messa Leggiamo una parola Siamo incappati Nelle acque a mare Camminando Nel deserto Di Sud Però le acque a mare Sono state rese Dolci Dal legno Che il Signore Ci ha dato E che abbiamo Immerso Nelle acque a mare Che sono diventate Potabili E sono state Così In mezzo di Dio Per la guarigione Di tante malattie Il testo È tratto Dall'Esodo Capitolo 15 Versetti 22 26 Mosè Fese levare L'accampamento Di Israele Dal Mar Rosso Ed essi avanzarono Versi il deserto Di Sud Camminarono Camminarono tre giorni Nel deserto E non trovarono Acqua Arrivarono a mare Ma non potevano Bere di acqua Di mare Perché era una mare Per questo Erano state Chiamate Mare Allora I Signori Mormorò Cioè Il popolo Mormorò Contro Mosè Che cosa Verremo Egli evocò Il Signore Il quale Gli indicò Un legno Lo gettò Nell'acqua E l'acqua Divenne Dolce In quel luogo Il Signore Impose Al popolo Una legge E un diritto In quel luogo Lo mise Alla prova Disse Se tu ascolterai La voce Del Signore Tuo Dio E farai Ciò che è retto Ai Suoi occhi Se tu Presterai Orecchio Ai Suoi ordini E osserverai Tutte le Tue Legge Io Non ti Impligerò Nessuna Delle Infermità Che ho Implitto Agli Egiziani Perché Io Sono Il Signore Colui Che ti Guarisce Signore Noi siamo Incappati Nelle acque Amare Però le acque Sono diventate Dolci Con legno Dalla croce E il legno Dalla croce Rendendici Potabili Le acque Hanno avuto Anche La facoltà Di guarirci Da tutte Le malattie Contratte In Egitto Signore Nella tua croce E bevendo L'acqua Che sborda Dal tuo costato Che noi Possiamo guarire Da tutte Le nostre Malattie Fa Signore Che una volta Guariti Noi Proseguiamo Il viaggio Verso Elim Dove ci sono Settanta palme E dodici Storgenti Di acqua Tutto Questo Sarà detto E sarà letto Prossimamente Nel libro Che verrà Edito In questi giorni Chiediamo Intanto Al Signore Di bere Tutto Di bere Tutti Alle acque Addolcite Dal legno Dalla croce E di ritrovarci Tutti Dopo questo Periedo Sotto Le settanta Palme Di Elim A bere Di alle dodici Sorgenti Delle acque Che sgorgono Dalle sorgenti Signore Il Signore ci ha Inviato Altri testi Non leggeremo Tutti C'è un testo Di Barocco Capitolo Quarto Dove Il Signore Ci dice Che vi ha Infritto Capitolo Tredici Di Romani Ci dice Questo voi farete Consapevole Del momento E ormai Tempo Di svegliarvi Da sonno Perché La nostra Tervezza È più vicina Più di quanto Diventammo Credenti La notte È avanzata Il giorno È vicino Gettiamo Via Perciò Le opere Delle tenebre E indossiamo Le armi Della luce Comportiamoci Onestamente Come in pieno Giorno Non Tra impurità E licenze Non In contese E gelosia Rivestiamoci Tutti Del Signore Gesù Cristo E non Seguiamo Più la carne Nei Suoi desideri Grazie Grazie Signore Di questa esortazione Che Tu ci fai Vogliamo camminare Nella Tua luce Vogliamo Amarci Tra di noi Vogliamo Camminare Nella Tua via Che è la via Che è la via Della salvezza Signore Noi attendiamo Tutta da Te Nulla Attendiamo Degli uomini E per questo Che le nostre mani Sono protese Verso di Te Perché Soltanto da Te Ci verrà la luce La forza La vita Amin Preiamo l'abbiamo